Perso non è stato però il primo nella storia della filosofia a occuparsi di segni. C'è una lunghissima storia di pensieri sul segno nella filosofia. La sua originalità è il modo di pensare i segni. Ma prima ancora del pensiero filosofico sul segno c'è un pensiero teologico sul segno. Ci sono segni in Omero, ci sono segni nella Bibbia e questi segni sono segni divini. In ebraico, nella Bibbia, la parola è ot. E ot vuol dire lettera, lettera dell'alfabeto, vuol dire segno e vuol dire miracolo. C'è un celebre frammento di Eraclito che più o meno dice le stesse cose o comunque allude la stessa realtà. È un frammento che è stato molto commentato. Dice più o meno il Signore che sta ad Elfi, cioè Apollo, non dice. Non nega, quindi non afferma, non fa discorsi e non li nega, ma accenna. La parola che Eraclito usa è semainei, di nuovo la stessa radice di semiottica. E quindi in qualche modo il Divino ci dà dei segni, ci dà degli accenni, ci mostra delle cose in via velata che richiede interpretazione. Il segno è ciò che non è esplicito da questo punto di vista, è ciò che deve essere interpretato. Nel seguito della filosofia, in particolare in Aristotele, poi negli stoici, eccetera, il segno è sempre distinto dal linguaggio, dalla parola, ed è ciò che sta per altro. L'esempio tipico che fanno gli stoici è il segno, per esempio il fumo rispetto al fuoco. Io vedo del fumo e dato che so che se non c'è fumo senza fuoco, allora capisco che c'è un incendio e mi regolo di conseguenze. Il filosofo della tradizione moderna che si occupa più fortemente di segni è Locke, nella tradizione empirista anglosassone in cui in qualche modo anche Peirce fa parte. Locke dice le idee, cioè le rappresentazioni che noi ci facciamo degli oggetti sono segni, le parole sono segni delle rappresentazioni e quindi per così dire sono segni di secondo grado. E quindi c'è già in Locke questa idea che i segni si concatenino. Peirce riprenderà queste intuizioni, le metterà in un posto centrale nella sua filosofia e le sistematizzerà. Senza dubbio Eraclita, gli stoici, Locke, eccetera, si sarebbero molto meravigliati a sentir proclamare Peirce, come spesso faceva, che l'uomo è un segno, che noi siamo segni, che il nostro pensiero è segno, che tutto nella realtà è segno. Quindi c'è un passaggio molto significativo che in qualche modo coincide poi con dei fenomeni sociali, coincide con il fatto che, lavorando tra il 1860 e il 1914, Peirce assiste alla grande rivoluzione delle comunicazioni. Quando lui incomincia a lavorare c'è già il telegrafo, ma il cinema arriva a due terzi del suo percorso e la radio subito proprio alla fine, ma nel frattempo l'esplosione della capacità di comunicare, della capacità di rappresentazione e di riproduzione dei segni diventa così grande da modificare la vita degli uomini e quindi da produrre anche uno stimolo potente nel pensiero.